scuole sicure al via da questa mattina il secondo turno di screening presentato il progetto di riqualificazione del san benedetto operazione da 40 milioni covid record di casi regione chiuse due sezioni del carcere pesarese la lotta al covid dell'ospedale di pesero gira al mondo con le foto di alberto giuliani una buona serata a tutti i telespettatori di rossini tv il canale 633 del digitale terrestre bentornati a un nuovo appuntamento con l'informazione del nostro telegiornale in apertura di questa edizione il secondo turno dello screening scuole sicure a partire questa mattina sono state alcune scuole medie della città tra cui l'istituto pirandello nel quale siamo andati per seguire lo svolgimento dei tamponi ed è partito questa mattina il nuovo screening organizzato dall'amministrazione comunale di pesero riservato al mondo della scuola screening che a partire da oggi e fino a domani interesserà anche le scuole medie questa mattina ci troviamo infatti alla scuola pirandello da cui sono partiti i primi test dei tamponi la risposta dell'istituto della scuola media è stata assolutamente positiva abbiamo un'adesione dei ragazzi che pari circa il 75 per cento i docenti e il personale ATA hanno partecipato praticamente tutti e come parteciperanno anche alla campagna vaccinale perché quello che stiamo difendendo in questo momento è l'attività in presenza noi del primo grado abbiamo sempre lavorato in presenza certo qualche classe è andata in quarantena e ancora in quarantena però sono percentuali ancora basse rispetto all'insieme della popolazione scolastica e riteniamo che uno strumento come questo una possibilità come questa ci consenta di continuare l'attività in presenza che difendiamo e difenderemo fino a giugno assolutamente per quanto riguarda quindi la pirandello quanti le classi attualmente in quarantena in quarantena sono tre classi in questo momento parlo della scuola secondaria dovrebbero rientrare la prossima lunedì quindi insomma abbiamo terminato al momento non ci sono positivi quindi insomma speriamo di poter riprendere a pieno ritmo la prossima settimana con tutti i ragazzi con tutte le classi buona la fluenza che ha toccato mediamente il 70 per cento delle adesioni anche nelle scuole medie dante alighieri brancati e galilei che insieme all'istituto pirandello hanno dato il via al nuovo appuntamento della campagna scuole sicure l'attività di screening è proseguita poi nel pomeriggio rivolgendosi al personale educativo e ausiliario dei nidi delle scuole d'infanzia comunali delle scuole primarie e delle scuole d'infanzia statali domani invece dalle 8 e 30 alle 13 i tamponi per studenti insegnanti e personale ata saranno eseguiti nelle scuole medie restanti leopardi gaudiano e manzoni mentre nel pomeriggio dalle 14 alle 20 i test verranno effettuati al campus per lo screening di studenti docenti e personale delle scuole superiori pesaresi riteniamo che lo screening sia l'unica arma per tenere sotto controllo i contagi è un'operazione che vorrei insomma che anche tutto il resto della regione marche potesse avere e perché poi ricordiamo che ragazzi sotto i 16 anni non si potranno vaccinare sicuramente non sarà entro la fine dell'anno scolastico per i ragazzi maggiorenni quindi è un'operazione con cui è possibile stare in classe in sicurezza e contenere a continuare a tenere le scuole aperte è la prima giornata ma l'adesione altissima grazie al mondo della scuola che ha aderito con grande entusiasmo c'è un'affluenza davvero molto alta dei ragazzi e degli insegnanti e la dimostrazione è che una scuola sicura si può fare se c'è uno screening periodico ormai lo diciamo da mesi ci siamo sgolati avevamo immaginato che alla prima difficoltà si sarebbero richiuse le scuole ed è quello che sta avvenendo in tutta Italia e credo che la chiusura delle scuole debba esserci soltanto in casi estremi che se è giustificata in zone rosse come oggi a Dancona ovviamente del tutto giustificate ci sono dati completamente fuori controllo comunque molto molto gravi non è giustificata da altre parti dove invece magari i dati ancora sono sotto controllo e dove un controllo nelle scuole può evitare l'esplosione dei casi e con i numeri riportati oggi dal servizio sanità della regione le marche toccano un nuovo record di contagi quotidiani da covid 19 nelle ultime 24 ore sono stati testati 6.555 tamponi 3.937 nel percorso nuove diagnosi di cui 1.121 nello screening con percorso antigenico e 2.618 nel percorso guariti con un rapporto positivi testati pari al 23,3 per cento i positivi nel percorso nuove diagnosi sono 919 con la metà dei casi che si registra nella provincia di Ancona e 117 nuovi positivi riscontrati nella provincia di pesaro e urbino a questi numeri si aggiungono 9 nuovi decessi legati al coronavirus e notificate ieri sera dal servizio sanità della regione nessuna vittima era residente nel territorio pesarese e a preoccupare sul fronte covid sono anche i dati delle varianti registrati sul territorio regionale come riferito dal direttore dell'osservatorio epidemiologico della regione marche marco pompili all'agenzia dire è emerso che dall'ultima estrazione random settimanale dei campioni analizzati la presenza della variante inglese è prevalente e più alta rispetto alla media nazionale 58 per cento a livello regionale contro il dato nazionale attestato al 54 per cento sempre secondo l'estrazione dell'ultima settimana a livello regionale è stato inoltre rintracciato il 4,8 per cento di casi riconducibile alla variante brasiliana e nel frattempo nella carcere di villa fastigia pesaro sono state chiuse due sezioni della struttura circondariale a causa dell'identificazione di sette detenuti positivi al virus la scoperta è avvenuta lo scorso fine settimana e da subito i sette detenuti sono stati posti in isolamento nelle proprie celle dalle quali non possono uscire mentre il personale di polizia penitenziaria impegnato a svolgere i controlli di routine dovrà indossare tutti i dispositivi di protezione necessari ancora non chiare le cause che hanno scatenato il contagio delle sette persone un accordo storico e concreto con queste parole è stato definito il progetto di riqualificazione destinato al san benedetto da anni la struttura dell'ex ospedale psichiatrico versa in condizioni di degrado e con l'accordo raggiunto tra comune di pesaro asur e regione marche lo stabile sarebbe pronto ad essere investito da un'operazione dal valore di 40 milioni di euro vediamo servizio abitazioni sociali uffici a servizio dei cittadini casette a schiera e una nuova casa della cultura ecco il nuovo progetto per riqualificare il san benedetto grazie ad un accordo storico tra comune di pesaro regione marche e asur la riqualificazione del complesso immobiliare la cui storia racconta negli ultimi anni progetti tavoli per mettere fine allo stato di degrado e abbandono dell'immobile prevede più fasi nella prima il comune si impegna ad approvare una variante urbanistica al piano regolatore generale per spacchettare le destinazioni d'uso del complesso suddividendo il san benedetto in quattro aree per un totale di circa 15 mila metri quadri di superficie calpestabile così divisi più di 5.700 metri quadrati saranno destinati alle residenze pubbliche 6.080 metri quadrati del complesso saranno destinati ad uffici direzionali dell'asur di oltre mille metri quadrati sarà composta la superficie per le residenze private e infine un'area culturale per cui sono previsti quasi 1.500 metri quadrati dopo il passaggio e l'approvazione della variante da parte del consiglio comunale l'asur si impegnerà a cedere allo spazio della lavanderia parte a sud del complesso al comune di pesaro allo stesso tempo provvederà ad un intervento di recupero edilizio degli spazi tra via belvedere e via mammola bella quelli che si affacciano sul giardino interno per destinarli ad uffici direzionali cessione ed interventi che verranno realizzati con il contributo della regione marche che si impegna ad approvare le determine asur per il passaggio degli immobili a collaborare economicamente al recupero edilizio e a vendere come residenze private gli immobili che insistono su via mammola bella parallelamente il comune di pesaro con il sostegno di regione marche e asur parteciperà al bando abitare per il recupero della parte principale del san benedetto quella che si affaccia su corso 11 settembre da destinare ad edilizia residenziale pubblica nel caso in cui il bando vada a buon fine il comune di pesaro diventerà proprietario della parte in oggetto corrispondendo ad asur un controvalore il costo totale dell'operazione è di oltre 40 milioni di euro e gli interventi di riqualificazione sono stimati intorno ai 37 milioni il 16 marzo quindi la prima scadenza data entro la quale comune regione presenteranno un primo progetto per partecipare al bando di rigenerazione urbana da 15 milioni di euro queste quattro iniziative fanno in modo che ci siano serie possibilità secondo me di poter arrivare a divenire in tempi ragionevoli usiamo questo termine in tempi ragionevoli ad una soluzione di questa iniziativa il progetto che il comune di peso sta portando avanti che sarà presentato entro il 16 di marzo per questo c'è anche un po di fretta nel farlo se questo bando potesse vedere vincente il comune di pesaro sarebbe un buon viatico perché vorrebbe dire effettivamente iniziare da una parte importante che tutta la parte che adesso corso 11 settembre diciamo sul centro della città se il comune riesce a ristrutturare quella parte lì in automatico partirebbe anche la parte subito ristrutturante portata avanti da asur non dovesse andare a buon fine tra virgolette questo tipo di impostazione in questo bando rimane comunque valida iniziativa perché secondo me da qui alla prospettiva bandi vari ricovera e fanno e quant'altro ci possono essere fonte di finanziamenti importanti indipendentemente da questo bando già uscito in questo momento al quale stiamo partecipando grazie all'interesse dell'assessore Agusti della regione abbiamo trovato subito un accordo con il comune su come intervenire sapendo che c'è siamo davanti a una fase straordinaria dal punto di vista degli investimenti bandi nazionali risorse europee che arriveranno e abbiamo nel giro di poche settimane definito il quadro dove ognuno sa che cosa dovrà fare la parte diciamo che interessa maggiormente al comune di peso è quella culturale vicino alla biblioteca per allargare gli spazi della biblioteca e anche per fare una sorta di casa del rossino opera festival anche con residenze artistiche la parte invece sul sul corso il bando è sulla rigenerazione urbana legata all'abitazione ci sono però anche diversi interessamenti dal punto di vista del socio assistenziale il socio sanitario la parte invece di competenza della regione sono uffici e invece la parte su via Mammolabella sono abitazioni quindi diciamo un intervento misto diviso per parti e per competenze ma unitario nella sua progettazione e il sindaco di pesaro matteo ricci che abbiamo appena sentito in conclusione di quest'ultimo servizio ha commentato attraverso la sua pagina facebook la notizia giunta nel pomeriggio delle dimissioni da segretario del partito democratico di nicola zingaretti il quale aveva affidato pochi giorni fa al primo cittadino di pesaro il coordinamento dei sindaci del pd ricci ha definito comprensibile la scelta effettuata dall'ormai ex segretario affermando però che zingaretti dovrebbe continuare il suo mandato ponendo sullo sfondo le problematiche interne del partito ed è passato poco più di un anno da quando anche sul nostro territorio sono stati registrati i primi casi di covid c'è chi in questi mesi ha deciso di raccontare la lotta dell'ospedale di pesaro contro il virus attraverso degli scatti fotografici che hanno poi fatto il giro del mondo e che hanno ottenuto importanti riconoscimenti a livello internazionale stiamo parlando del fotografo alberto giuliani che abbiamo intervistato lavoro è nato un po per caso la commissione io lavoro per tanti giornali però nessuno aveva pensato di fare questi ritratti che sono nati da una mia idea da una mia volontà di capire realmente questo nel marzo scorso che cosa fosse la malattia che stavamo affrontando è stata una sorpresa capire e vedere la partecipazione degli stessi medici e infermieri e il risultato è stato ancora più sorprendente perché poi queste immagini fisiologicamente sono andate nel mondo dell'editoria che il mio mondo il mio primo mondo di riferimento è ancora più sorprendente capire che queste immagini poi potevano diventare sono diventate uno strumento per delle grandi donazioni da parte di aziende di multinazionali però insomma che hanno fatto donazioni a ospedali di tutto il mondo per 153 milioni di euro per cui insomma sono cifre importanti molto spesso ho pensato che invece la fotografia non potesse cambiare il mondo come io immaginavo e sognavo sin da ragazzo poche volte nella mia carriera insomma mi è capitato di capire e vedere che invece l'immagine una testimonianza diciamo fotografica o scritta che sia avesse la forza realmente di cambiare le cose in questo caso è andato così pertanto sono molto contento il lavoro e gli scatti realizzati le sono valsi il titolo di fotografo dell'anno per il 2020 sì quello è uno dei premi la campagna ha ricevuto tantissimi premi a livello mondiale tanto che è stata poi premiata anche dall'associazione per la pubblicità americana come la campagna più premiata al mondo beh sì insomma è un motivo di orgoglio ma credo che poi quel senso delle immagini possa essere altro anche ci sono diversi momenti che che ovviamente non dimenticherò mai perché sempre quando in qualche modo si attraversa la storia se metti i piedi nella nella storia accadono cose che in qualche modo sentiamo sulla pelle e ci segnano il cuore la memoria un messaggio che mi porto dentro è stata sicuramente il fatto che dalla mia città io sono nato a pesaro sono stato lontano per tanti anni ed ero appena tornato a vivere a pesaro la mia città abbia saputo in qualche modo regalarmi e regalare forse al mondo un'immagine di sé che portava il messaggio dell'unione cioè i medici di pesaro sono stati considerati e sono uguali a quelli di toronto come a quelli di shanghai e questa è la ragione per cui le immagini sono state accolte così bene in in tutti i paesi del mondo ma appunto si portano anche un messaggio di di unità siamo tutti uguali siamo tutti sulla stessa barca e non c'è distinzione di alcun genere e si è svolto oggi il primo incontro tra l'associazione ristoritalia e l'istituto alberghiero santa marta di pesaro finalizzato alla creazione di una sinergica rete tra scuola territorio e lavoro l'accordo prevede il collocamento degli alunni delle classi quarte e quinte dell'istituto nel mondo lavorativo un progetto nato grazie alle volontà delle due realtà protagoniste e dal quale sono state gettate le basi per una collaborazione proficua l'amministrazione comunale di cartoceto rinnova il proprio parco mezzi dopo aver partecipato con successo al bando della regione marche per lo sviluppo e la diffusione della mobilità sostenibile con un contributo di circa 100 mila euro un'opportunità importante che consente al comune di cartoceto di dotarsi di quattro nuovi veicoli a trazione elettrica che andranno quindi a sostituire altri altrettanti del vecchio parco automezzi più inquinanti e sprovvisti delle moderne tecnologie che garantiscono una maggiore sicurezza e anche quest'anno torna concerto rosa appuntamento musicale dell'otto marzo a cura dell'orchestra olimpia costituita interamente da donne che si occupa di musica di pari opportunità e diritti umani l'edizione 2021 si terrà alle ore 21 in diretta streaming dal teatro rossini di pesaro e sarà trasmesso sulle pagine facebook dell'orchestra olimpia del comune di pesaro e dell'ente concerti pesaro ripartire dalle realtà locali per essere pronti a riprendere le competizioni con i campionati nazionali questi primi progetti di giacomo mattioli che è stato da poco designato come nuovo presidente regionale del centro sportivo italiano marche effettivamente secondo qualcuno questo non è il miglior momento per guidare un ente di promozione sportiva io invece non la penso così nel senso che è un grande stimolo poter lavorare e preparare la ripartenza per il periodo post covid perché diciamo che durante la mia relazione ho identificato questo momento come il più difficile dopo quello del dopoguerra soprattutto per lo sport ed effettivamente così è è un servizio è un settore che è fermo da un anno tante persone che non lavorano tanti atleti che non giocano tanta voglia di socialità pronta a riesplodere è molto stimolante in questo momento storico particolare poter guidare un ente di promozione sportiva così presente radicato sul territorio marchigiano come quello del centro sportivo italiano 400 società sportive affiliate un bacino di 25.000 tesserati e quindi sono numeri importanti che vedono una presenza maggiore nella provincia di pesaro ma una presenza importante anche nelle in tutte le altre province i livelli di sui quali ci stiamo muovendo principalmente sono tre uno un dialogo con la regione marche politica per cercare di capire anche quelle che sono azioni che possono essere condivise con l'amministrazione regionale uno a livello di omogeneità di attività sul territorio regionale naturalmente valorizzando le peculiarità di un territorio rispetto ad un altro ad esempio in quest'ultimo periodo stiamo spingendo sulla formazione di allenatori per il padel e infine coordinarsi anche a livello nazionale perché poi quando ripartiranno i campionati si inseriranno nell'ambito dei campionati nazionali siamo abbastanza convinti che la ripartenza prima che con le attività sportive classiche soprattutto quelle di squadra potrà avvenire con iniziative diciamo più promozionali e questo ci fa anche piacere perché il centro sportivo italiano non dimentichiamo che nasce nelle parrocchie nasce negli oratori nasce nelle piazze ed è proprio lì il primo posto nel quale noi vogliamo tornare vogliamo tornare a aggregare i bambini negli oratori quindi legarsi anche alle realtà parrocchiali e quindi stiamo studiando insieme agli assistenti ecclesiastici quindi consulenti i preti che accompagnano il cammino di ogni comitato provinciale un progetto organico oratoriale a livello regionale e in più vogliamo tornare nelle piazze quindi quando sarà possibile fare momenti di sport e di concerto con le amministrazioni comunali per coinvolgere a livello puramente di divertimento e non competitivo bambini ragazzi ma anche adulti in eventi diciamo itineranti che possano girare un po' per tutte le principali città della nostra regione. Ancora lo sport protagonista del nostro telegiornale per raccontarvi i risultati dei match infrasettimanali che ieri hanno visto protagoniste la Vispesaro che ha messo a segno un'importante vittoria e l'Alma Juventus Fano che invece ha perso in trasferta a Bolzano. 2 a 0 il punteggio finale e tre punti in più in classifica. La Vispesaro può gioire dopo la prestazione di ieri al Benelli contro la Feralpi Salò che ha portato in casa biancorossa un risultato importante dopo l'assenza di vittorie nelle ultime sei partite. Una prestazione che ha messo in luce il lavoro e la preparazione dei giocatori come sottolineato dall'attaccante Cannavò autore del primo gol del match e da mister Didonato. Abbiamo affrontato squadre blasonate e non abbiamo mai meritato di perdere anzi se c'era una squadra doveva vincere la nostra quindi mi sono basato sulla prestazione dei ragazzi in questo periodo che erano ottime e oggi è uscita fuori questa grande prova dei miei ragazzi e i complimenti vanno tutti a loro. Forse il primo tempo la davamo chiudere già nel primo tempo abbiamo avuto tante palle gol per arrotondare il risultato però va bene così il 2 a 0 risultato che ci sta e ce lo prendiamo e ti ripeto il merito è tutto di questi grandi ragazzi che stanno facendo veramente veramente un gran lavoro. Io ho chiesto solo ai ragazzi di attaccare alti che c'era solo un risultato dalla nostra parte dobbiamo rischiare qualcosina dietro e di stare sempre alti di giocare con gli esterni proprio sui terzini loro erano un 3-3-4 alla fine mi hanno seguito la lettera e alla fine sono venuti fuori una buona gara e di tante occasioni. Sono contento perché ti ripeto i ragazzi stanno lavorando bene e meritano queste situazioni. Una grande vittoria è venuta dopo un paio di sconfitte pesanti anche un po' bugiardi direi sfortunati anche nelle ultime e oggi ci dà morale e siamo contenti. Ora dobbiamo continuare su questa strada e andare a Cesena con la mentalità giusta. Clima meno gioioso invece in casa dell'Alma Juventus Fano che in trasferta a Bolzano nel turno infrasettimanale contro il Sud Tirol ha dovuto incassare un pesante 3-0. L'allenatore Flavio Destro ha parlato di un avversario importante contro il quale ci sono state disattenzioni come le prime due reti subite, occasioni non sfruttate ma anche qualche situazione giocata bene specialmente nel primo tempo. La concentrazione ora è per il prossimo match in programma, domenica contro la Fermana. E questa era davvero l'ultima notizia per il nostro telegiornale. Vi ricordiamo la prima serata di Rossini TV. Questa sera torna infatti un nuovo appuntamento con Insieme a Canestro, il programma condotto da Marco Cadedu dedicato alla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Gli ospiti di questa sera saranno Edin Mujacovi, Ciala VL, Roberto Venerandi, preparatore fisico, Luigi Illuminati, giornalista del Resto del Carlino e infine Romeo Sacchetti, coach della nazionale italiana basket. Questa sera quindi su Rossini TV alle 21.15 e poi in replica negli orari che vedete nel cartello. E poi l'appuntamento con l'informazione sarà puntuale domani mattina alle 7.20 in diretta con una nuova edizione della nostra rassegna stampa. Buongiorno Rossini. E torna domani puntuale anche un nuovo appuntamento con Casa Rossini, condotto da Paolo Pagnini. Il programma domani vedrà come ospiti il sindaco di Gradara Filippo Gasperi, il titolare Ido Stampa Alfio Magnesi e Federico Scaramucci di Urbino Incoming. Casa Rossini quindi domani mattina in diretta alle 10 su Rossini TV. Per interagire con noi potete contattarci al numero WhatsApp 351 70 899 77 oppure inviare una mail a casarossini.chiocciolarossinitv.it Grazie per averci seguito con questa edizione del nostro telegiornale. Vi auguriamo un buon proseguimento di serata su Rossini TV.